Il biove sarà facile perché ci prendiamo in strada quindi non abbiamo problemi di manovre di quanto lunghi siamo come convoglio e via dovremo capire un attimo quando arriviamo al BS centrale se stiamo tutti perché la colonna è lunga e altrimenti diciamo che il primo metro di sentri è colore tra l'ultimo non possiamo neanche bloccare la via pricata perché è in alto quindi adesso quando arriviamo Grazie a tutti